Marco, cosa fai? Lo puoi scivolare giù? Voi state sul buono eh, tanto adesso per gravità viene giù. Mauro, metti il discusione. Ah, rampone, metti, rampone. Sì, 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 sì. La radio invece ci vogliamo. La radio ce lo giungo, l'onorevo. Sì, 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 sì. Vapamene, vapamene. Ok. Ragazzi. Va bene, va bene. Fai? Galalo! Grazie a tutti. Grazie a tutti.